Salve sono qui per il mio primo giorno di lavoro Pronto, si? No non sono Topolino, ma chi è? Ma chi è? Ma pensa a questi Un momento, il direttore sta arrivando Salve un giorno mi scusi, ero a costruire una casa su The Sims, si sente pronto per questa prima giornata di lavoro? Beh guardi sono un po' teso ma pronto per la mia prima giornata Venga le mostro i nostri uffici, prego Allora alla sua destra potrà notare che abbiamo i valori giocatori Bella regà Salve, come funziona qui con la valutazione delle squadre forti e non forti, ad esempio la Roma? Allora, della magica a parte Totti gli altri vengono considerati da 85 in giù Quindi che ne so, prendi Gengi Gervinio, fai così, gli schiacchiato, valutazione totale, ok 72 Mentre per i peri armadritte Ronaldo va dai 86 in su, vabbè a parte che Ronaldo gli mette mostrando il 99 Promo prendilo per esempio, 94 Funziona così Va bene, ha capito comunque come si calcolano i valori Adesso la porto a vedere il Momentum, che è questa stanza qui Prego Guardi Salve, sono proprio presto a vedere come funziona il Momentum Salve, è molto semplice Io con questa monedina decido chi fa vincere a inizio partita Praticamente fai così, giri, si esce testa, arrivo a squadra, si esce croce e quell'altra Molto semplice Ed è che ne la porto a vedere il fuorigioco? Venga, venga Cosa stai facendo qui? Oh grulli, e qui si sta calcolando il fuorigioco, eh Vuoi che te lo spiego? Dai, te lo spiego ancora Praticamente, quando la punta dello scarpino dell'attaccante supera lo scarpino dell'avversario di un millimetro E qui infatti siamo a due, tira dietro la gamba, ok? E' fuorigioco, l'è fuorigioco, capito? Non ora hai capito più o meno come funzionano qui gli uffici per FIFA? Sì, tutto chiaro Però ne posso fare un'altra domanda Certo Ma qui mi assomigliate un po' tutti, cioè ce ne paremmo No, no, assolutamente no Domani ci resta comodo che andiamo su Battlefield E si porti anche un giubbotto antiproiettili Si sente ora della squadra? Sì, sono pronto Fabio, ti ho detto che non puoi tornare a lavorare con lui Ormai abbiamo preso quell'altro Aspetta un secondo E.A. Sports E.A. Sports E.A. Sports E.A. Sports E.A. Sports